Visita oggi il mio nuovo store online www.xuder.it Tante magliette, felpe, prodotti stagionali e ad edizione limitata www.xuder.it mi raccomando e ovviamente codice creator XIUDERONE! E adesso video! Andiamo di nuovo? LOL! WANA! WANA! Porca la banana! Ok fantastico, sonda numero 2 Easy, facciamo un giro queste casette Andiamo a mettere l'ultima sonda e credo che arriviamo a livello 2.21 Fine season il 12 settembre, oggi ragazzi è il 6 agosto Sta già volando anche agosto, porca trota Easy, guarda che lo faccio col piccone Grazie bro Dusino, pagigino, grazie mille ragazzo, arriva sempre a farsi chillare When to? che palla insegura questo a ok andiamo 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 o non sale easy è un po' bastardone quello lì però ce ne andiamo ce ne andiamo ce ne andiamo nel cil nel cil nel cil assolutamente sita pazza ragazzi ve lo ricordo ve lo ricordo solo per oggi ultimo giorno di sconto per level up del 10 per cento ragazzi c'è un fortale qua sopra dai un bel pump è brutta grazie brutta 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 no oggi non sono in gg piano 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 non c'è fretta non c'è fretta dentro in otto vediamola questa partita raga chiudiamola saliamo nel cil siamo ancora in 6 è tutto distrutto qua continuiamo a salire piano fighereto lo spaz è arrivato lo spaz piano 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 incazzato questo piano 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 poi era incazzatissimo raga e ma io ho una a un abbonamento in palio per questo win ho un abbonamento in palio dentro in tre o ma che che fa turo turo 9 regala l'abbonamento e così nuova gigino 2mila c'è natura guarda quello turo non faccia turo non faccia per che di invasata quest'ora piano ah hanno fixato sono contento fra hai visto molto bene veramente 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 grazie Oh shit! Let's go! Let's go!